Ah, un'altra bella salita, pensate, dal numero 48 al numero 34, un 45 giri, che magari i nostri amici di Sjockey già hanno piazzato nel loro programma della discoteca da diverse settimane, però adesso finalmente è stato pubblicato anche in Italia, poi è stato lanciato proprio dal nostro appuntamento con Popcorn, sono state ospiti in premiatissima e non solo, ma molto presto verranno in Italia per una grande tournée insieme, mi pare a Gazzibo, comunque queste sono indiscrezioni ufficiose e non ufficiali. Sto parlando della numero 34 di questa settimana, cioè le Flirts con Fesce. Sto parlando della musica Sto parlando della musica Sto parlando della musica Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.